le moderne vetture di formula 1 hanno una potenza di circa 750 cavalli che si trasferisce sul retrotreno in maniera molto violenta per questo motivo devi effettuare le tue manovre con delicatezza e precisione in modo da non destabilizzare la vettura e mandarla in testa coda quando le vetture sono lanciate in velocità si genera un forte carico aerodinamico che aumenta l'aderenza al suolo per sfruttare efficacemente il carico dovresti innanzitutto premere con forza il pedale del freno e poi ridurre lentamente la pressione in prossimità di una curva infatti in questa fase l'aderenza è ridotta e le gomme sono maggiormente sollecitate quando affronti una curva cerca di rimanere il più largo possibile prima di avvicinarti in modo da tagliarne l'apice seguendo la linea più dritta possibile in questo modo potrai accelerare prima e raddrizzare la vettura in uscita di curva una volta oltrepassata la curva aumenta leggermente la pressione sull'acceleratore finché le ruote posteriori smettono di slittare a quel punto puoi lanciare la vettura a piena velocità grazie a tutti